Sono contento di salutarvi che i ragazzi e ragazze che prendete parte al primo incontro globale del turismo giovanile. Per quanti tra voi sono ancora studenti, il turismo coincide con il tempo delle vacanze scolastiche. Le esperienze che si possono fare in questo periodo rimarranno nella vostra memoria. Oltre allo svago e al riposo, so che alcuni di voi usano questo tempo per offrire volontariamente un aiuto in iniziative di solidarietà. Altri si dedicano a piccoli lavori per dare una mano alla propria famiglia o per mantenersi negli studi. Altri ancora si ritagliano giorni di silenzio e preghiera per stare con Dio e ricevere luce sul loro cammino. In ogni caso vi incoraggio a usare bene e responsabilmente il tempo che avete a vostra disposizione. E' così che si cresce e ci si prepara ad assumere i compiti più impegnativi. Cari giovani, vi auguro di essere messaggeri di speranza e di rilascita per il futuro. Mando la mia benedizione e il mio saluto. Grazie. Grazie.